Cresce in Toscana la raccolta differenziata dei rifiuti, confermando una tendenza ormai in corso da alcuni anni. A livello regionale, la quota raggiunta nel 2014 è stata del 48%, con un incremento di 2,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Un risultato che peraltro non è omogeneo per territori e province. I migliori risultati su una produzione che per quegli urbani nel 2014 è tornata a aumentare dopo tre anni di stop, si parla di 5 kg pro capite, arrivando a tutte le tipologie considerate a circa 2,26 milioni di tonnellate, sono stati raggiunti nei confini del lato, ambito territoriale ottimale, Toscana centro, che raggruppa le province di Firenze, Pistoia e Prato. La raccolta differenziata nella media regionale è stata di 298 kg per abitante. Con Firenze che svetta, qui la media è stata di 306 kg e la provincia di Pistoia è arrivata a quota 247 kg di differenziata pro capite. Fanaglini di coda nella classifica risultano grosseto in massa, ferme rispettivamente a 185-187 kg. Nel Pistoiese, considerando il lavoro che resta da fare per il comune capoluogo, si segnala in positivo il fatto che sui 13 comuni toscani che hanno addirittura superato la soglia del 90% nella differenziata, quattro sono appunto comuni pistoiesi, Lamporecchio, Lerciano, Monsummano e Seravalle. Nei dati diffusi dalla regione, certo quel che emerge, non sono tutte rose e fiori. Delle 281.000 tonnellate di carta gettata via, solo il 28% del totale è stato avviato al riciclaggio. Sempre meglio comunque di quel che è avvenuto per sfalci e potature, si arriva all'11%. Per non parlare del recupero del legno, la quota è al 7% delle 22 tonnellate di metallo buttate via. Di queste, solo il 2% è stato recuperato, così come è avvenuto per apparecchiature elettriche ed elettroniche.